Il Cus Avellino comunica di aver concluso l'affiliazione con il nascente progetto Italia Futsal Academy, gettando le basi per un'innovativa accademia di futsal sul territorio di Avellino. Il progetto Italia Futsal Academy nasce dall'idea di due tecnici di primo livello di calcio a 5, Carlo Kundari e Fabio Oliva. Il giovane calciatore dai 5 ai 12 anni, grazie al metodo IFA, deve assimilare un lavoro basato su principi del gioco del futsal per poi arrivare alla soglia agli 12 anni, con una preparazione tecnico-tattica di livello superiore, grazie alla quale potrà scegliere la strada o del calcio o del futsal. Concetti condivisi, quindi tra calcio e futsal, l'obbligo di allenamenti in spazi ridotti stimolano maggiori sollecitazioni e condizionano il giovane atleta a pensare e decidere velocemente. Senza trascurare l'aspetto ludico, si andrà a sviluppare un lavoro basato su principi di tecnica individuale, tattica individuale e collettiva, che varieranno in funzione alle categorie. Tutto questo e tanto altro costituisce il nostro modello di insegnamento. Il presidente Emilio Carlos Lanzetta dichiara, nell'ambito della crescita del settore giovanile del Cus Avellino, siamo contenti di entrare a far parte di questo progetto tecnico. Attendiamo le future disposizioni per organizzare la partenza ad Avellino. Il responsabile del settore giovanile Nicola adesso fa da eco al presidente, sicuramente un'iniziativa ambiziosa che può fornire carburante al movimento del futsal irpino per i prossimi anni. Il responsabile del settore giovanile Nicola adesso fa da eco al movimento del futsal irpino per i prossimi anni. Il responsabile del settore giovanile Nicola adesso fa da eco al movimento del futsal irpino per i prossimi anni.